Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video di margaret love oggi raga passiamo in un passo qua ci sono le altalene qua tutte le margherite e là c'è la mia canzone e poi là c'è invece la mia bici e dopo con mio padre faremo tipo un giro allora oggi non ci concentreremo sui tavalluti né sulla mia canolina né sulla mia bici né sullo scivolo né sulle altalene ma ci concentreremo su questa ci concentreremo proprio su questo qua io da quanto che non ci andavo l'ho appena provato e sono arrivata con mio padre fin lassù sulla punta è fighissimo e adesso raga faremo tipo una challenge una challenge gioco una challenge di vettimento allora questo qua sarà la lava come dettagli se lava e io non la posso toccare quando cado voi mi quando ti porto con questo dopo il mio via voi dovete scriverlo nei commenti ok e dopo questo iniziamo via mamma mia raga mio dio raga io ho paurissima questa roba e comunque se vi piacciono questi giochi estremi dovete mettere un pollicione e scriverlo nei commenti e soprattutto se sei la prima volta che vieni a girontolare qua in questo canale io sono margaret lo ho già detto non so più che l'ho ripetuto e io io faccio dei video pazzi 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 complicato se volete anche giochi così mettete un pollicione iscrivetevi al canale e soprattutto mettete iscrivetevi sui commenti arriviamo a 10 milioni di iscritti che sarebbe un milionato anche vanno bene anche mille dai anche mille guarda mille iscritti grazie grazie grazie